in questo video andiamo a vedere come si possono interfacciare ad openhab i gpio del raspberry per poter connettere dispositivi ad esempio sensori di temperatura switch o altro direttamente al raspberry gpio sta per general purpose input output e non è nient'altro che un insieme di pin ai quali si possono connettere sensori attuatori compatibili oppure da rendere compatibili direttamente sulla scheda del raspberry nel mio attuale setup ho utilizzato questa metodologia per controllare lo stato dei sensori del mio antifurto e questa cosa la voglio riportare ovviamente anche nella nuova installazione di openhab 3 andiamo quindi a vedere come si installa questo addon è un esempio di un suo utilizzo eccoci sulla pagina della documentazione del gpio binding bisogna installare sul raspberry un servizio che serve a rendere disponibili i gpio in modalità remota quindi andiamo ad installarlo sul nostro raspberry un pacchetto già disponibile sul repository ok poi dobbiamo abilitare dal raspi.config la possibilità di controllare l'accesso remoto ai gpio ok perfetto a questo punto controlliamo di avere il servizio installato ok lo abilitiamo all'avvio del sistema devo usare sudo scusate ok torniamo sul nostro raspberry e andiamo a installare il tool per poter pilotare i gpio ok dopo l'installazione verifichiamo che adesso il comando pinout funzioni anche sul raspberry ok quindi abbiamo le info del nostro raspberry e il layout del gpio adesso facciamo una prova con dei semplici script in python per comandare un gpio passarlo dallo stato aperto allo stato chiuso e viceversa e vediamo che il tutto funzioni prima di passare poi ad openhab per utilizzare le informazioni che ci possono arrivare dai vari input e output del raspberry quindi decidiamo di usare il gpio 17 per il nostro test e ho preparato uno script in python nella cartella python che non fa nient'altro che utilizzare la libreria gpio 0 agganciarsi al pin 17 del gpio 17 e poi in loop infinito stampa il valore corrente del gpio 17 ogni secondo quindi questo lo mandiamo in esecuzione per n questo sta in esecuzione sempre continua a stampare sulla sull'output il valore del pin lo mandiamo in esecuzione con python ok adesso abbiamo sul gpio 17 abbiamo il segnale a1 adesso duplichiamo la sessione e ci apriamo un altro terminale in questo terminale andiamo in maniera interattiva a lanciare dei comandi python quindi utilizziamo la libreria gpio 0 ci creiamo una variabile in cui andiamo a prendere il controllo del gpio 17 ah scusate non so neanche più scrivere digital ok quindi possiamo per sicurezza stamparci il pin gpio 17 quindi siamo su quello giusto a questo punto possiamo lanciare un comando che si chiama blink che ogni secondo passa dallo stato 1 allo stato 0 e viceversa questo in maniera continua quindi possiamo fare anche un secondo per uno stato e tre secondi per un altro stato così vediamo vediamo variare lo possiamo vedere qua vedete che dura tre secondi lo 0 e un secondo l'uno quindi se noi avessimo avuto qualcosa di collegato al gpio 17 del raspberry ad esempio un led con le opportune resistenze dimensionate tutto lo vedremo accendersi spegnersi in maniera automatica quindi tutto questo solo per verificare che la lettura e la scrittura dei gpio funziona adesso possiamo andare a configurare openhab per interagire con i vari pin torniamo sulla nostra documentazione di openhab e dopo aver installato e fatto tutte le prove per la verifica del servizio pi gpio d allora assicuriamoci che il servizio sia in esecuzione quindi torniamo sul nostro raspberry e lanciamo il comando per verificare che sia in esecuzione ok è active running perfetto a questo punto possiamo tornare su openhab e andare a installare il nostro addon quindi andiamo sul things ne aggiungiamo una e dobbiamo andare a installare se non abbiamo già installato il gpio binding ok installato il gpio binding andiamo a creare una things quindi l'unica che ci viene proposta è questa creiamo lasciamo tutto di default e inseriamo l'indirizzo ip del raspberry la porta la lasciamo 8888 di default ok e abbiamo il nostro nostro oggetto pigpio a questo punto verifichiamo è online a posto sulla documentazione ci viene detto che ci possono essere due tipi di canali l'input e l'output ovviamente andiamo avanti con la configurazione dei canali aggiungiamo un canale di tipo input lo chiamiamo ch input 17 perché ci agganciamo sempre al nostro pin 17 questo è un input quindi noi lo andiamo a leggere e possiamo indicare uno stato di uno switch ad esempio quindi questo potrebbe essere lo stato di un switch 17 lo possiamo chiamare il pin che configuriamo il 17 nelle advanced c'è il delay time per evitare dei falsi contatti io lo alzo un pochettino così siamo più tranquilli creiamo il nostro canale di input e poi creiamo anche il canale di output visto che ci siamo ch output 17 che potrebbe essere il comando per una luce quindi luce 17 ci mettiamo sempre sullo stesso pin ok allora agganciamo un item al nostro canale come al solito andiamo a vederlo ok al momento è on quindi riprendiamo il nostro raspberry siccome in questo caso noi stiamo leggendo lo stato del nostro pin andiamo a rifare la chiamata blink che abbiamo fatto prima quindi da python andiamo a scrivere sul pin 17 magari facciamo 3 secondi 3 secondi così vediamo cosa succede off on e così via quindi la lettura funziona perfettamente interrompiamo e adesso passiamo alla scrittura quindi andiamo sull'altro canale aggiungiamo un item anche su questo canale a questo punto dobbiamo andare a vedere intanto lui ci riconosce già che è acceso perché evidentemente prima la routine l'ha lasciato acceso quindi adesso richiamiamo il nostro script di prima che fa il controllo che fa la lettura continua del 17 vedete che ha uno scusate faccio solo così così si vedono entrambi gli schermi lo spengo e siamo andati a 0 lo riaccendo e siamo andati a 1 quindi questo meccanismo funziona è stato anche abbastanza facile configurarlo e quindi in questo modo possiamo connettere dei dei dispositivi direttamente al raspberry per l' pessimistere la terminata鄭 e il gamer per l'affäristbir e quindi per